Benvenuti ad Oncologia Personalizzata, oggi parliamo di tumore alla mammella, vi presento gli ospiti che sono il professor Luigi Cavanna che è il direttore del Dipartimento di Oncometologia dell'Ospedale di Piacenza, benvenuto. Grazie, ben trovati. Alla destra del professor Cavanna abbiamo il dottor Dante Palli che è il direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale Indirizzo Senologico e della Breast Unit di Piacenza. Buonasera a tutti, grazie. E il dottor Nicola Orsi che è anatomo patologo dedicato alla mammella. Buongiorno. Do il benvenuto a tutti e tre, chiedo a lei dottor Palli di spiegarci che cos'è la Breast Unit, in particolare la Breast Unit dell'Ospedale di Piacenza. Buonasera a tutti ancora e grazie per l'invito. Cos'è la Breast Unit? La Breast Unit è un insieme di professionisti dedicati, di medici professionisti dedicati alla cura, al trattamento, alla diagnosi del tumore della mammella. Sono specialisti che dedicano quindi gran parte del loro tempo lavoro al tumore della mammella. Questo è molto importante perché oggi sappiamo che essere curati all'interno di una Breast Unit, quindi essere trattati da professionisti che si occupano specificamente di tumore mammario, aumenta le possibilità di sopravvivenza. Oggi la medicina non è più fatta da singoli professionisti che lavorano isolati nel loro studio medico, ma si deve lavorare in equip. L'equip in questo caso è formato da tanti professionisti, dal chirurgo all'oncologo, all'atomopatologo, al radiologo, al radioterapista, al fisioterapista, allo psicologo, il riabilitatore, le infermiere dedicate al percorso mammario. Quindi veramente una grande parte di professionisti che tutti insieme concorrono prima alla diagnosi, alla prevenzione e al trattamento del tumore. Sendo lei chirurgo, le chiedo quali sono le ultime novità nella chirurgia rispetto al tumore alla mammella, perché in passato mi avevano fatti interventi, non so se me lo conferma, molto più invasivi. Sì, sicuramente oggi si cerca di operare tumori sempre più piccoli, quindi questo è importante che le donne si affidino alla prevenzione. La prevenzione è fatta fondamentalmente dalla mammografia, una prevenzione di tipo secondario e quindi avere una diagnosi precoce per cercare di portare la diagnosi di tumore sempre più piccolo in uno stadio sempre più precoce. Questo comporta poi terapie sia oncologiche che chirurgiche meno invasive. La chirurgia la possiamo dividere in due grandi filoni, in due grandi comparti, che è la chirurgia di tipo conservativo, che è la quadratectomia o exerisi, che dir si voglia, e la chirurgia invece demolitiva, che è la mastectomia. Oggi però anche le mastectomie sono diverse dalle mastectomie del passato. È stato coniato un termine improprio che ha una contraddizione intrinseca, quello della mastectomia conservativa. Cosa vuol dire? Che oggi si cerca di far uscire, anche in caso di intervento quindi demolitivo, di asportazione totale della ghiandola mammaria, di far uscire la donna dalla sala operatoria con già una ricostruzione. Il chirurgo senologo ha imparato, ha mediato dalla chirurgia plastica, di tecniche appunto di chirurgia plastica, le ha fatte proprie, le ha inserite nella chirurgia mammaria nella chirurgia ricostruttiva della mammella. La donna che oggi affronta una mastectomia nel 90% dei casi uscirà dalla sala operatoria con una ricostruzione immediata, con una protesi quando è possibile o con un intervento di altro tipo, utilizzando ad esempio lembi autologhi, cioè lembi di tessuto proprio della donna stessa, per far sì che il senso di mutilazione dato dalla mastectomia sia il minore possibile. Proprio perché un recupero psicologico, anche postoperatorio, un minor senso di mutilazione comporta una maggiore accettazione anche delle cure postoperatorie. Dottor Palli, le chiedo di fare un passo indietro. Qual è il percorso della donna che arriva alla Breast Unit di Piacenza? Lo chiedo lei e poi anche al dottor Orsi. Il percorso deve essere diviso fra donne asintomatiche, cioè che arrivano, che accedono alla Breast Unit senza una diagnosi di tumore, senza un nodulo palpabile, senza un sintomo che possa far sospettare della presenza di una patologia mammaria e invece donne sintomatiche che per un qualche motivo, per un autoriscontro di una nodularità o per altri sintomi della mammella, vengono alla Breast Unit di Piacenza per una diagnosi. Le donne asintomatiche perseguiranno un percorso fondamentalmente di mammografia o decografia a seconda della fascia di età, quindi mammografia clinica o mammografia di screening, mentre invece le donne sintomatiche verranno avviate con un percorso di urgenza per una diagnosi precoce, per una mammografia, per un'ecografia ed eventualmente per approfondimenti di secondo livello che sono le cosiddette, che sono le biopsie, le microbiopsie, che porteranno appunto ad una diagnosi nel caso ci sia presente una nodularità mammaria e in questo caso interviene il ruolo dell'anatomo patologo che è un ruolo molto molto importante oggi. Ecco dottor Orsi, a proposito di anatomo patologo e il suo ruolo all'interno dell'ospedale di Piacenza dedicato alla mammella appunto, le chiedo in cosa consiste questo ruolo? La ringrazio della domanda perché ci offre l'opportunità di spiegare al pubblico, a tante persone chi è l'anatomo patologo, un personaggio che magari televisivamente è stato associato a qualche personaggio famoso che fa le autopsie, cose di questo genere. No, il patologo oggi è un medico specialista che si occupa di, in ambito oncologico, di porre la diagnosi di neoplasia. L'anatomo patologo è un osservatore dei tessuti umani, il nostro strumento di lavoro è il microscopio ottico e quando giunge nei nostri laboratori un campione del tessuto viene allestito, viene preparato un vetrino che noi esaminiamo al microscopio e cerchiamo di interpretare il tessuto che abbiamo di fronte se è un tessuto sano, normale, benigno o maligno. Per fare un esempio immaginiamo i tappeti orientali ce ne sono tantissimi, si assomigliano tutti eppure ciascuno ha il proprio disegno, il proprio simbolismo ecco, in un certo senso, se mi è consentito il paragone, noi cerchiamo di individuare in ognuno di questi la propria caratteristica. Bisogna ricordare che i tumori sono tantissimi, nella mammella sono circa 30 tipi diversi e noi cerchiamo di tipizzare il meglio possibile la neoplasia sia dal punto di vista della struttura istologica sia, e soprattutto questo è il ruolo rivoluzionario degli ultimi anni, individuando nel tessuto tumorale quelle alterazioni fini che possono essere bersaglio di quell'immenso armamentario terapeutico di cui oggi dispone l'oncologia e che può veramente cambiare il destino della paziente cosa che anni fa era un pochino più difficile. Quindi l'anatomopatologo interviene direi dal primo momento in cui la donna può venire sottoposta a un accertamento di secondo livello con una biopsia e in questo caso noi forniamo una diagnosi e cerchiamo di darla completa di quei caratteri che quando discutiamo il caso nella breast unit con tutti gli specialisti potranno servire a guidare le terapie chirurgiche o eventualmente le terapie mediche nel migliore dei modi e soprattutto nel modo più performante per la persona. Oggi si parla molto di terapie personalizzate e questo perché ogni tumore tutto sommato è diverso da un altro e ogni paziente ha le proprie caratteristiche e quello che noi cerchiamo di dare è di offrire un quadro completo delle caratteristiche della malattia all'oncologo, al chirurgo, al radioterapista perché questi possano dare la miglior risposta terapeutica possibile e questo è molto importante e mi piace sottolineare che nella breast unit questa continua collaborazione molto stretta fra tutti gli specialisti che per la verità a Piacenza sono tanti anni che abbiamo cominciato, veramente ha consentito di crescere professionalmente a tutti come è stato detto prima noi non siamo più nei nostri studi ma ci confrontiamo e immaginate questo lo dico per i pazienti che magari non lo sanno, ogni paziente viene contemporaneamente vista da una decina di specialisti e di ogni paziente viene esaminato tutto, lo stato di salute generale, studiamo la cartella clinica, vediamo come e cosa una terapia più essere più idonea per lei addirittura ci si prende cura di dove abita la paziente, se è una paziente anziana che abita in posti difficilmente raggiungibili cercare di offrire il miglior trattamento possibile questo lo facciamo con impegno e siamo abbastanza orgogliosi direi della nostra organizzazione Qual è il grado di sopravvivenza oggi dopo la diagnosi di un tumore alla mammella? Allora, la diagnosi, cioè la sopravvivenza del tumore della mammella negli ultimi dieci anni ha avuto sicuramente, anzi negli ultimi venti ma anche negli ultimi dieci un notevole incremento e questo è dovuto sostanzialmente a due fattori il primo fattore, due fattori paralleli lo screening e la diagnosi precoce più si individua un tumore di piccole dimensioni più questo con ogni probabilità non avrà dato disseminazione di cellule in giro e quindi la possibilità di dare metastasi o micrometastasi è sicuramente ridotta e poi i nuovi interventi farmacologici, le nuove terapie le terapie bersaglio di cui immagino il professor Cavanna parlerà fra poco come ha parlato in altre occasioni che hanno veramente dato un cambiamento importantissimo soprattutto, se posso dire, anche sulla qualità di vita delle pazienti perché il paradigma nuovo è questo anni fa si sottoponeva la paziente alla dose massima di terapia che poteva sopportare oggi si fa la dose minima efficace e questo credo sia un risultato importantissimo questo è molto importante anche ai fini di mantenere una buona qualità della vita della paziente indubbiamente il dottor Palli? sicuramente è molto importante è giusto sottolineare come faceva il dottor Orsi l'importanza della collaborazione e l'importanza della diagnosi precoce la chirurgia, come dicevamo prima, cerca di essere sempre più conservativa e sempre meno invasiva e cerca di restituire nel miglior modo possibile ad una vita sociale la più precoce possibile la donna dopo l'intervento chirurgico ma anche le terapie mediche sicuramente come diceva, come dirà il professor Cavalla poi sono diventate sempre più personalizzate oggi non si parla, è improprio parlare di tumore della mammella ma il tumore della mammella è composto da tanti diversi tipi il tumore della mammella e lo scopo è quello di cercare di identificare per ogni singola paziente la cura più adatta sia da un punto di vista chirurgico che da un punto di vista oncologico questo è molto importante per garantire sia le maggiori possibilità di sopravvivenza ma anche la migliore qualità di vita nel post-operatorio e nel post-cure perché purtroppo la donna dovrà comunque seguire un certo percorso e questo percorso lungo o corto che sia lascerà comunque degli strascichi della sua vita sarà una cicatrice che dovrà essere però la meno indelebile possibile quindi è importante che la paziente sia accompagnata in questo percorso da persone che abbiano la professionalità ma anche la sensibilità di poter essere loro vicine noi diamo nell'ambito della Breast Unit molta importanza anche all'umanizzazione delle cure è molto importante le nostre infermiere sono infermiere dedicate che sono disponibili nell'arco di tutta la settimana di tutti i loro giorni lavorativi a parlare con le pazienti a cercare di risolvere i problemi che si possono presentare nel corso del loro percorso durante il loro percorso negli anni passati si parlava in generale di tumori e guarigione dopo tot anni dall'asportazione oggi a riguardo cosa ci può dire rispetto al tumore alla mammella? ma intanto possiamo dire che sicuramente che come diceva prima dottor Orsi negli ultimi anni c'è stato sì le curve diciamo di incidenza del tumore della mammella sono andate un pochino aumentando ma quello che è aumentato in maniera più importante è la curva della sopravvivenza oggi una donna che si ammala il tumore della mammella ha delle possibilità di sopravvivenza di restare libera da malattia molto molto alte parliamo di quasi il 90% dei casi questo indipendentemente dallo stato di malattia iniziale quindi possiamo dire che sicuramente una donna che oggi si ammala il tumore della mammella che ha delle altissime probabilità di guarire dal suo tumore questo grazie alla diagnosi precoce grazie agli interventi chirurici ma grazie soprattutto anche alle terapie mediche oncologiche innovative che negli ultimi anni si sono affacciate e si sono fatte avanti la donna però dovrà continuare purtroppo a fare quello che viene chiamato un follow up cioè dovrà continuare a fare degli accertamenti che consentano a lei di essere consapevole di non avere una recidiva o una ripresa di malattia nel corso degli anni per quanto tempo? generalmente la paziente resta in osservazione per circa 10 anni dopo l'intervento chirurgico e poi ritorna a fare controlli secondo la sua fascia d'età quindi la mammografia ritornerà nell'ambito dello screening se è in fascia di screening ancora quindi riprenderà a fare una mammografia in relazione all'età di appartenenza ecco a proposito dell'età di appartenenza oggi ci sono molte diagnosi anche in età avanzata su donne oltre 70 anni è sempre consigliato l'intervento nel caso di certi tumori alla mammella o a volte possono sopravvivere convivendo con questo? no, oggi anche il principio direi che è di riservare alla donna anziana gli stessi trattamenti se possibile se questa donna non è gravata da comorbidità importanti cioè non ha malattie tali che ne controindicano un intervento chirurgico o un trattamento medico però alla donna anziana vanno riservati gli stessi trattamenti che possono essere proposti ad una donna di più giovane età anche perché gli interventi chirurgici molto spesso se conservativi vengono eseguiti all'anestesia locale con sedazione quindi sono interventi che anche dal punto di vista anestesiologico e del rischio operatorio sono veramente a bassissimo rischio quindi è importante questo perché ci pentiamo sempre quando noi non offriamo ad una donna un trattamento sia chirurgico che medico adeguato anche se in età avanzata teniamo conto che la sopravvivenza oggi delle donne è oltre gli 80 anni si avvicina agli 85-86 anni quindi parliamo di una sopravvivenza prolungata quindi sarebbe sbagliato negare ad una donna che si ammala il tumore della mammella a 70, 75, anche 80 anni abbiamo parlato recentemente anche donne di 90 anni un trattamento chirurgico che in fin dei conti può risolvere con poca spesa lasciatemi passare il termine un problema se eseguito in sicurezza in sala operatoria in un ambiente adeguato in anestesia locale con un minimo di sedazione e ricostituisce la donna in giornata alla propria famiglia Professor Cavanna in base a quello che ci hanno detto il Dottor Palli e il Dottor Orsi direi che negli ultimi anni sono stati fatti dei passi avanti importanti nella cura di tumore della mammella ma anche nella qualità della vita delle pazienti no sicuramente come dicevano il Dottor Palli e il Dottor Orsi abbiamo visto i progressi fatti ma la cosa bella davvero mentre li ascoltavo è far capire al cittadino e le cittadine che ci ascoltano quanto sia importante lavorare assieme il pensare io mi ammalo e se so che attorno a me vi è un gruppo di persone che ha finalizzato che ha quello scopo di curarmi al meglio senza più entrare in quella competizione negativa del passato che vi è una competizione positiva che fa crescere quella negativa al contrario fa decrescere che è negativa per il paziente quindi sapere che attorno a un malato o una malata in questo caso vi è tutto un gruppo di persone come si diceva che lavorano ognuno per la propria parte per la propria esperienza per il proprio studio le proprie conoscenze le proprie ricerche per curare al meglio quella persona veramente è un passo in avanti è un passo non solo in avanti da un punto di vista scientifico metodologico ma anche di civiltà di rispetto della gente quindi davvero io credo che poi del resto la breast unit come diceva il Dottor Palli è diventato un po' un modello in oncologia un modello in cui noi ci si aspira e ci sono altre unit come la prostata o il polmone è un po' di moda prendere i termini anglosassoni ma questo vuol dire che se noi abbiamo dei professionisti dedicate a quella patologia il risultato migliore il risultato è sicuramente migliore ma soprattutto se questi professionisti lavorano in sintonia ognuno per la propria parte e questa è la cosa bella che possiamo davvero condividere con tutti i cittadini che ci stanno ascoltando poi la cosa davvero rilevante è che i progressi li abbiamo avuti sia dal punto di vista dell'istopatologico della biologia molecolare come ci ha fatto vedere il Dottor Orsi sia dal punto di vista dell'intervento chirurgico anche quando è invasivo è sicuramente meno invasivo del passato più rispettoso della paziente e poi le terapie oncologiche le terapie mediche con i farmaci sempre più mirati sempre più efficaci e sempre diciamo più rispettosi degli altri tessuti e questo ne consegue due punti fondamentali aumento della sopravvivenza e aumento della qualità di vita Benissimo io ringrazio i miei ospiti sia per l'intervista di oggi sia per il lavoro che portate avanti grazie grazie a lei grazie a chi ci ascolta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti